Si torna a parlare del premio di Martin, edizione del 2022, questa mattina sono stati resi noti i nomi dei vincitori che verranno premiati nell'ambito dell'Assemblea del Cram. Sono Antoni Molino, saggista, scrittore, psicanalista, e Berenice Rossi, saggista anche lei, soprattutto ricercatrice delle culture degli abruzzesi nel mondo in Argentina, e Valeria Di Santo, presidente dell'Associazione degli Abruzzesi nel mondo, negli Emirati Arabi, Fabrizio Ferri, che è un ingegnere, si occupa di fincantieri in Cina, è responsabile della produzione di navi da crociera, e poi abbiamo veramente questo personaggio che ci onererà con la sua presenza, che è Maurizio Mariano, noto legale del Sudafrica, di origini abruzzesi, ma soprattutto ha camminato a fianco di Nelson Mandela nelle battaglie contro le persone più svantaggiate. Premieremo come premio Gaetano Crucetti due artisti locali, che sono Stefano Angelucci e Danilo Di Paolo Nicola, che è responsabile dell'orchestra del Saltarello, quindi questa orchestra che sta spopolando e che sta rallegrando le nostre serate estive in Abruzzo. Ma avremo tanto altro di più, orchestra di Marti in diretta da Antonella De Angelis, Lara Molino, cantautrice abruzzese, che ci racconterà anche questo viaggio dell'immigrante, ma Valerio Di Rocco, che con la sua voce ripercorrerà quei brani famosi di Marti in Franzinatra. Sono stati calcolati circa 1.300.000 abruzzesi o figli o nipoti di abruzzesi presenti oggi nel mondo, di cui diverse migliaia organizzate, iscritte nelle liste anche degli italiani residenti all'estero, che quindi hanno anche diritto di voto, e con decine di associazioni nei diversi stati nazionali, che continuano a tenere viva, vitale, presente la memoria, la cultura e l'attività dell'Abruzzo. Premieremo anche degli abruzzesi eminenti nel mondo, grandi dirigenti, persone socialmente impegnate, studiosi, ricercatori e ricercatrici, che appunto ci onorano della loro attività e che conservano un legame profondo con il nostro territorio, già tanto che saranno presenti in persona a basto a ricevere il premio di Martini, che approfittando dell'occasione di questa riunione in presenza del CRAM, quest'anno appunto verrà conferito nell'ambito di questa riunione, nell'ambito di questa occasione, mettendo insieme questi momenti che sono comunque dedicati alla promozione, allo sviluppo, alla premiazione della cultura abruzzese nel mondo.